Il premio sostenibilità 2013, progetto vincitore della categoria per la ristrutturazione e restauro, si tratta del recupero e restauro di una costruzione residenziale sita nella frazione di Avesa del comune di Verona, un edificio storico che ha previsto la riqualificazione energetica dell'intero complesso e senza dimenticare l'integrazione dello stesso nell'ambiente circostante come anche il restauro vero e proprio di tutte quelle che sono le caratteristiche e il complesso dell'edificio. La destinazione d'uso che originariamente era la residenza tale è rimasta. Lo sforzo maggiore è stato quello di riuscire a coordinare diversi temi, da quello del consolidamento a quello della riqualificazione energetica, all'integrazione ambientale, al restauro e all'efficienza degli impianti con un'architettura che non perdesse il sapore dell'antico, anzi che lo conservasse possibilmente valorizzandolo, però l'efficienza di un edificio assolutamente a passo con i tempi. Lo sforzo maggiore che è quello di cui si diceva prima è proprio quello del progettista e direttore dei lavori che deve coordinare la maggior parte delle competenze in gioco, avendone però una coscienza e un controllo. L'architetto coordina tutto, dopo c'è stato il contributo di un ingegnere strutturista e un ingegnere impiantista che hanno fatto qualche calcolo, ma tutto era nelle mani del progettista, quindi insomma il progettista deve avere piena coscienza di tutte quelle che sono le competenze e i temi in gioco.